Salve, sono Rossella Mattioli, un'attrice pescaresi nata nel lontano 1957, dunque non più una ragazzina, ma dentro sì, dentro sì. Ho cominciato a fare teatro all'età di 19 anni perché sono entrata nella compagnia stabile della mia città, ho fatto anche delle belle tournée in mare città italiane, ma sempre lottando contro il tempo perché nel frattempo ho insegnato per 30 anni nella scuola media come insegnante di musica e anche di attività teatrale, dunque di tempo non ce n'era tanto. Tuttavia ho sempre continuato a lavorare su quella che è la mia vera passione, cioè la recitazione cinematografica con autoaggiornamento, con scuole, frequentazione di scuole a Roma e workshop che ancora frequento, perché se c'è una passione sono sicura che quella bisogna perseguire, la bisogna coltivare, la si deve amare. Quindi seppure in modo tardivo ho frequentato o partecipato a varie fiction, dal medico in famiglia all'ultima replay la serie, un'esperienza veramente molto bella e interessante, anche perché ho avuto a che fare con un cast internazionale di tutto rispetto. Le altre mie passioni, quali sono musica, canto e danza a corpo libero. Le mie muse di riferimento sono Anna Magnani e Monica Vitti, a cui devo anche la mia passione per il dialetto, ma certamente ho tanto rispetto anche per le attrici d'oltreoceano come Mary Streep e Michelle Pfeiffer, che sono convinta a danno un contributo molto poetico al loro personaggio. Vi faccio vedere i miei profili e le mie mani.